E' carino, ma a lui piace quanto lui piace a te. Nonna, per favore, la vuoi smettere? Ehi mamma, guardami! Sorridi! Il mio cognome è Salmon, come il pesce. Ok, non stramo, spiega le vele. Il mio nome, Susy. Ciao papà! Ciao Susy! Sei bellissima, Susy Salmon. Avevo 14 anni, quando mi hanno assassinata. Sei la piccola Salmon, giusto? Il 6 dicembre 1973. Non l'abbiamo trovata, signora Salmon. Sì. Mi dispiace molto. Papà, è morta, non è vero? Lei ti manca, vero? Non c'è più. Se non fosse così... Se fossi ancora qui... Nonna, Susy è del mondo intermedio. Non ero andata via. Ero viva. Nel mio mondo perfetto. Ma in cuor mio, sapevo che non era perfetto. Il mio assassino mi perseguitava ancora. Susy non seguirebbe mai uno sconosciuto. Era qualcuno che conosceva. Posso darle un nome? È il compito della polizia, è il nostro lavoro. Mio padre aveva tutti gli elementi, ma non riusciva a combinarli. C'è una tomba in mezzo alla vostra casa! Aspettavo di avere giustizia. Ma non fu così. C'è la piccola Salmon, giusto? Papà! Ha decisamente qualcosa che non va. Perché non volete ascoltarlo? Perché servono degli indizi, servono delle prove. Quando è che la smetterai? Papà! Avanti, affrontami! Non avere paura. Non avere paura.